Dopo un 2021 in ripartenza, la prima metà del 2022 è stato un semestre in crescita. Che bilancio può fare di questo periodo e quali sono le evidenze del secondo semestre? Il primo semestre del 2022 è stato sicuramente positivo per quanto ci riguarda. È stato in crescita, in crescita dal punto di vista dei fondamentali, per la marginalità e la redditività. Ma siamo ben posizionati anche per il secondo semestre e lo vediamo in crescita anche dal punto di vista dei ricavi dovuti anche al fatto dell'aumento dei costi delle materie prime che ovviamente consentiranno di avere maggiori ricavi rispetto a quelli preventivati. Per cui siamo fiduciosi anche per il secondo semestre di ottenere quello che ci siamo prefissati nel nostro piano industriale. Siamo contenti di come sta andando l'attività e il proseguo dell'attività anche per il 2022, ma siamo fiduciosi anche per il 2023. Per cui in un contesto particolare per i mercati siamo soddisfatti dell'andamento e di quello che ci aspetterà nel breve periodo. Come siete impattati dall'aumento dei costi e quali sono le azioni che avete messo in campo per contrastare questi eventi contrari? Siamo ovviamente impattati come tutti sia per quanto riguarda i costi delle materie prime che per la parte di realizzazione che sui costi energetici. Siamo stati bravi ritengo a ottenere dei contratti vantaggiosi per cui abbiamo ammortizzato, lo possiamo vedere anche dai bilanci, ammortizzato l'aumento dei costi non riducendo la reddittività per cui abbiamo dei contratti vantaggiosi per quanto ci riguarda sia sull'aspetto energetico e sull'aspetto delle materie prime e questo ci ha permesso di mantenere inalterate le marginalità che ci avevamo prefissati quando abbiamo contrattualizzato pre-covid e anche pre-aumento dei costi energetici. Per cui non ha avuto impatto sulla nostra attività e anche per il futuro riteniamo che non avrà impatto sulla parte marginalità per cui ovviamente avrà un ritorno dal punto di vista dell'aumento dei ricavi perché faremo più volume d'affari ma sicuramente dal punto di vista marginalità e reddittività non cambierà nulla. Avete un portafoglio ordini importante, che tipo di contratti sono e come si sta evolvendo questo portafoglio? È un portafoglio pluriennale perché noi abbiamo contratti con le pubbliche amministrazioni prevalentemente nel mondo sanitario di lunga durata che derivano da concessioni pubbliche. È un portafoglio che speriamo e siamo fiduciosi che crescerà in modo anche molto importante in questi prossimi due esercizi perché abbiamo in essere una serie di operazioni che arriveranno a conclusione nel breve periodo. Sono contratti di servizi, soprattutto dal punto di vista energetico, che ci consentono di avere delle reddittività pluriennali certe, garantite che consentono all'azienda di avere una programmazione a medio e lungo periodo che ci consente di fare anche degli investimenti a ragion veduta proprio per questo tipo di portafoglio che ci lascia sereni per i prossimi dieci anni di avere una reddittività costante per l'azienda. Per cui stiamo lavorando per aumentare il portafoglio ordini, proprio per migliorare ulteriormente questa reddittività che ci è già garantita da questi contratti pluriennali. Grazie per la visione!